Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico dovrà arrendersi all'idea dell'addio di Ridge a Los Angeles, tutte le anticipazioni incredibile, ma vero. Dopo così tanti anni in tv a tener compagnia ai telespettatori è arrivata l'ora di salutare il Forrester che lascerà Los Angeles. Come si arriverà a quel momento? Prima succederanno una serie di peripezie. Il protagonista sarà autore di un gesto estremo, via web source. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Ridge si ritrova a vivere una situazione davvero molto complicata. A seguito della decisione che lo spinge a non sposare Taylor, decide che è arrivato il momento di lasciare Los Angeles. In particolare, ad interrompere la celebrazione delle nozze è proprio Steffi, la figlia della coppia. Quest'ultima scopre del vile piano messo in atto da Thomas per separare il Forrester da Brooke e decide di mettere Taylor al corrente di tutto, grazie alla testimonianza del nipote Douglas. Inizialmente Steffi smaschera il fratello in privato e poco prima del matrimonio rivela a sua madre il piano di Thomas, chiedendole allo stesso tempo di essere sincera con Ridge. Ma Taylor, quando si trova di fronte al Forrester pronto finalmente a risposarla, non trova il coraggio di dirgli la verità. Anticipazioni Beautiful, Ridge decide di allontanarsi da tutti, tornerà? Ridge chiocciola Mediaset Infinity. Ridge è molto scosso da quanto gli è stato riferito, come lui anche Hope. Il Forrester non può credere di aver trattato malissimo Brooke senza averle dato la possibilità di dire la sua versione dei fatti e decide di allontanarsi da Los Angeles, non a cuor leggero. Nonostante le scuse, la Logan non è pronta a perdonare il Forrester. Stando alle anticipazioni, tuttavia, sembrerebbe che Ridge sparirà solo per poche puntate, probabilmente per impegni dello stesso attore che aveva bisogno di rifiatare dal set ma al suo rientro i problemi sono lì, dovrà prendere una decisione su Taylor e Brooke. Ridge troverà confronto in suo padre Eric che sarà molto più propenso verso Brooke essendo un fan storico della coppia. Dalle anticipazioni, tuttavia, si sa che Taylor e Brooke stileranno un patto tra di loro. Di che si tratta? Per ora in Italia è presto per saperlo, ma in America non stanno più nella pelle. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!